E' terminata da poco la rifinitura pre-gara del Campopasso contro l'Olimpia agnonese. Dovrebbero essere annunciate delle novità di formazione sostanziale all'undici che affronterà domani pomeriggio il derby contro gli Altomolisani. Innanzitutto si va verso una coppia difensiva tutta senior, vale a dire Gattari unitamente a Fusaro con i due esterni che dovrebbero essere Rao sulla sinistra e Corbo sulla destra. Quindi riconfermati i due under di Avezzano. A centrocampo si va verso l'esordio di Lucchese, almeno queste sono state le indicazioni fornite nella rifinitura del sabato mattina con Censori e Valentini a completare il reparto mediano. Altre novità si annunciano pure nel reparto d'attacco laddove stanno scalpitando da qualche giornata questa parte sia Todino che Fiore. Ebbene, proprio questi ultimi due giocatori dovrebbero essere coinvolti dall'inizio nell'undici titolare del Campobasso contro l'Olimpia agnonese. È l'unico terminale offensivo, Sara Bucchi. Quindi evidentemente c'è aria di bocciatura per Dimas ed Alessandro. Tra l'altro dobbiamo dire che i quattro giocatori che sono stati sempre coinvolti da Cappellacci dal primo minuto sono Rao, Valentini, Bucchi ed Alessandro. Domani appunto uno di questi, proprio l'attaccante argentino, dovrebbe essere messo in discussione. Per quanto riguarda Lagnone, fuori il difensore Pifano che dovrà scontare la seconda ed ultima giornata disqualifica così come dubbi anche sulla presenza dell'attaccante talentuoso africano Sulemaniello, il quale ha ricevuto una botta al polpaccio in settimana. Sarà sicuramente una partita delicata per entrambe che sfuggirà ad ogni pronostico. Per ora Selvapiana per il Campobasso sei punti su quattro partite, dunque due vinte e altrettante perse. Per il Campobasso, ripetiamo, una gara delicata perché bisogna assolutamente riscattare il quarto KO stagionale, quello maturato una settimana fa ad Avezzano. Stamane con il nostro operatore Donato Mignoni abbiamo anche girato delle immagini nel famigerato parcheggio antistante Selvapiana che ormai è interdetto da tempo e si sta provvedendo all'abitumazione, come potete vedere dalle immagini, all'abitumazione della vasta area in maniera tale che la stessa, come anche da promesse dell'amministrazione comunale, possa essere asfaltata interamente entro la fine del mese di ottobre e dunque fruibile per i frequentatori di Selvapiana, evidentemente per i tifosi rosso-blu. Tornando al derby Campobasso-Limpiagnonese sentiamo una battuta del tecnico rosso-blu, Roberto Cappellacci. È da tempo che ne parliamo, il cambiamento di rotta, la continuità, eccetera, eccetera. Purtroppo non stiamo dimostrando di poter fare questo, non stiamo dimostrando di essere all'altezza di recitare il ruolo per cui siamo partiti e questo è un dato di fatto, non che da parte nostra non c'è l'ambizione, non c'è quell'angolino del cuore dove ti dice noi comunque ci saremo e noi comunque usciremo fuori. Però bisogna anche fare i conti con quella che è la realtà, la realtà è che noi in questo momento non siamo una squadra forte, siamo una squadra che può vincere sicuramente con chiunque ma può perdere anche con chiunque. Quindi le partite in questo caso non sono fatte dal campo basso, prima in classifica che ha 24 punti contro squadre di basso classifica, sono partite dove tra l'altro il campionato insegna che c'è tanto equilibrio, quindi sono partite che uno deve fare al massimo, sperare anche nell'episodio giusto e passo dopo passo, settimana dopo settimana, dobbiamo ritrovare quello che è la forza di questa squadra che per quello che ci riguarda sappiamo comunque di averne. Grazie.